Noi stiamo cercando di riportare tutte le priorità del governo nel settore della gioventù. Da un lato ovviamente continuiamo il lavoro grandissimo rispetto alla promozione dei programmi europei, delle priorità che ci detta l'Unione Europea, quindi il tema della partecipazione democratica, il tema appunto della cittadinanza attiva, quello delle competenze trasversali, competenze non formali o temi come quello dell'animazione socioeducativa. Dall'altro lato ci siamo occupati ad esempio in questi mesi di Caevano, proprio per cercare di uscire un po' dalla sensazione che Caevano sia un ghetto, un ghetto per chi ci vive e dall'altro lato far capire a questi ragazzi che c'è un mondo che li aspetta. Io credo che i giovani italiani siano pieni di talento, pieni di voglia di fare. Credo però che ci sia un momento di grande sconforto. Leggevo una ricerca in realtà che non è stata ancora pubblicata dell'agenzia, in cui uno dei dati che mi ha colpito di più è proprio il dato sull'ansia. I giovani vivono costantemente stress, forme di stress e di ansia. A scuola, nel rapporto con i docenti, nel rapporto con la famiglia, nella proiezione di se stessi verso il futuro, nell'ingresso del mondo del lavoro. Anzi è che, devo dire, la mia generazione non ha vissuto con lo stesso impatto. È chiaro che lo studio ha sempre creato a tutti momenti di ansia, di stress, però mai in maniera così eccessiva. Oggi vediamo i giovani che hanno ecoansia, cioè l'ansia appunto dei cambiamenti climatici rispetto al futuro. Allora io credo che non abbiamo dei giovani bamboccioni, ma abbiamo dei giovani a cui dobbiamo infondere maggiore coraggio. Ed è il motivo per il quale, da quando ho avuto l'onore di poter dirigere l'agenzia e di collaborare con il governo, in modo particolare ovviamente con il ministro Abodi, quello che cerco di fare tutte le volte che incontro i giovani è di raccontare sicuramente un'Italia, in modo particolare, ma poi chiaramente un'Europa, un mondo che vive delle difficoltà. Abbiamo visto con il Covid, con le questioni legate ovviamente alla disoccupazione, tutti i grandi temi, anche l'ambiente. Però il mondo non sta finendo domani mattina, quindi è importante infondere in loro, ed è quello che cerchiamo di fare, la speranza per il futuro, e anche raccontargli che hanno in se stessi la capacità di poter cambiare quello che secondo loro non funziona. Quindi credo che non ci sia una generazione di bamboccioni, ma ci sia una generazione che più di altri oggi ha paura del futuro. Allora credo che sia importante che gli adulti e le istituzioni infondano nei giovani il coraggio e diano gli strumenti.